Sì, è bello così. Il finale? No, il finale è perfetto, poi completa la grande lo spettacolo. Finalmente ho finito di scrivere sto spettacolo, non ce la facerò più. Abbiamo finito, se permetti. Flavio, che abbiamo? Te non ci hai messo mano. Non ci ho messo. No, non ci hai messo mano. No, Flavio, non fa stai battuta, te prego. Ma ci metto pure l'altro. Ma cosa c'entra l'altro? Allora, ma cosa fai? No, allora, ma che cosa? Allora, io intendo, allora, io intendo, io intendo, io intendo, io intendo, io intendo, io intendo. Allora, il copione va bene, lo spettacolo va bene, però ancora non c'è il titolo. Io voglio un titolo che invogli la gente ad andarlo a vedere, un titolo giovane. Ce l'ho! Tutta un'altra musica! Eh, lo so che sono un grande, grazie, grazie. Flavio? Sì? Stai dicendo sul serio? Eh, sul serissimo. Flavio, accendi un attimo quell'anticamera che tu chiami cervello. Tutta un'altra musica è il titolo dello spettacolo precedente. Poi Flavio, nella vita ci vuole più concentrazione. Eh? Ecco appunto. Dai, un titolo svelto, dai, dai. Zip! Zip. Eh, zip, svelto, no, piccolino. Un titolo virgola svelto, non il titolo svelto. Eh, che ne so, tu mi dici il titolo svelto. Io te ne dico un titolo svelto. Dai, forza, un titolo, un titolo, non c'è più tempo, dai, forza. Guardatevi questo. No. Dopo il primo c'è il secondo. No. Mi sta squillando il cellulare. Ma che titolo è? Eh, no, mi sta squillando il cellulare. Ah, scusa, no, penso. No, è che si può confondere. Pronto? Ah, buongiorno, sì. Ok. Glielo riferisco, sì, sì. Oddio, grazie. Sì, 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 glielo dico. Ok, le faccio sapere. Grazie ancora. Grazie, grazie. Ma chi era? Era il teatro olimpico. Il teatro olimpico? Il teatro olimpico. Ha detto che se vogliamo possiamo fare lì il nostro spettacolo per due settimane. Ma che figo! Ma, ma davvero? No, perché il nostro spettacolo lo faremo solo un giorno, alla fabulazione il 13 aprile alle ore 21. Non mancate! Ma, chi stai guardando? Cavoli miei! Ok, sì, abbiamo spiegato dove lo facciamo, come, quando e perché, però ancora non c'è il titolo. Come lo chiamiamo sto spettacolo? Ma che ne so, Paolo e Flavio Show. Sparo lì, tutto lì. Mi piace! Ti piace? Bello, coinciso, bellissimo. Ma comunque sì, infatti, perfetto. Bello, bello, che spiega cosa facciamo, Paolo e Flavio Show. Bellissimo. Poi è semplice, sì. Oh, finalmente hai fatto qualcosa di buono nella vita, eh. Il pianoforte, però... Se vuoi suonare ci sta là il pianoforte. Sì, però io volevo un VIP, un VIP a questo spettacolo. Ma c'è, scusa, ma ci abbiamo dare argento. Ah, ci abbiamo dare argento. Eh sì, perché non lo sapete? È vero, scusami allora, devo fare una telefonata velocissima, scusami. Sì, sì, sì. Oh, ciao. Senti, no, mi dispiace, però ci abbiamo già dare argento. Meglio che non vieni. Dai, ci sentiamo un'altra volta, ok? Va bene, ok, ciao, 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 ciao. Ma chi era? Johnny Depp. Johnny Depp, abbiamo Johnny Depp come VIP? No, che non ce l'abbiamo, c'è dare argento, che ne frega. No, non ce l'abbiamo, c'è dare argento, che ne frega.